Cari giovani, uniti in preghiera da luoghi così lontani, voi siete una profezia di pace e di riconciliazione per l'intera umanità. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Non innalzate muri, costruite ponti. Non innalzate muri, costruite ponti. Unite alle sponde degli oceani che vi separano con l'entusiasmo, la determinazione e l'amore di cui siete capaci. Insegnate agli adulti il cui cuore si è spesso indurito a scegliere l'entrata del dialogo e dalla concordia per consegnare ai loro figli e ai loro nipoti un mondo più bello e più degno dell'uomo.